Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Siamo qui oggi chiaramente a parlare del match che si è appena concluso tra Roma e Cagliari terminato sul punteggio di 1-0, a favore di Giallo Rossi grazie al gol su calcio di rigore di Sergio Oliveira. Cosa possiamo dire? Cagliari che si ferma dopo le ultime due vittorie tra Sandro e Bologna, Roma che riconquista la vittoria dopo due sconfitte consecutive arrivate tra Milano e Juventus. Partita diciamo molto 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 bloccata, tirata. Diciamo che per come è maturato questo risultato diciamo che la Roma nel complesso ha meritato ma il Cagliari non ha demeritato e soprattutto non meritava di perdere. Per come è stata interpretata questa gara. Abbiamo tenuto molto molto bene il campo, ci siamo fatti vedere davanti. Forse è mancato qualcosa nel primo tempo, soprattutto dal punto di vista offensivo. Nel secondo tempo però ci siamo fatti vedere non poco e anzi forse avremmo meritato più il pareggio noi che era la doppia la Roma. La traversa di Gio Pedro chiaramente è l'occasione più lampante ma c'è stato proprio un bel momento in cui il Cagliari si trovava in buone condizioni per trovare il pari. Peccato perché non è arrivato ma nel complesso la prestazione è molto buona. Chiaramente un po' di imprecisione, un po' di... Diciamo ogni tanto abbiamo forzato un po' la giocata, l'assenza chiaramente di calciatori importanti in questa squadra perché Grassi era importante, Lovato è importante, Bellanova è importante. I sostituti non hanno giocato male, sia chiaro perché Goldaniga al posto di Lovato, Goldaniga che non giocava da un sacco di tempo ha fatto benissimo, sia chiaro. Ha fatto una grande partita. Io sinceramente non me l'aspettavo una prestazione così da parte di Goldaniga. Ha fatto molto molto bene. Bene anche Zappa che l'abbiamo visto sempre un po' insicuro ogni tanto, anche nel primo tempo non è stato proprio il massimo, però nel secondo tempo è entrato al 100% in partita e ha messo in difficoltà Vigna molto molte volte. Abbastanza bene comunque anche Pereiro che se vogliamo è andato a studiare Grassi, chiaramente spostando il ruolo di playmaker, mettendo un trequartista, quindi mettendo Gaston Pereiro, e schierando anche una formazione abbastanza spregiudicata perché facendo così Mazzari si è scoperto e non poco con solo due centrocampisti, Marine e Deiola e Pereiro a dare supporto alle punte. Pereiro che non ha fatto malissimo, però poteva fare molto di più secondo me. Per il resto, sì, torniamo a casa con zero punti oggi, ma ripeto, la prestazione non è stata male. Chiaramente però bisogna vedere anche i lati un po' negativi di tutto questo perché con le due ammunizioni arrivate a Pavoletti e a Carboni, i due salteranno nel prossimo match che sarà contro la Fiorentina in casa, l'Unipol Domus, domenica a mezzogiorno e trenta. Diciamo che sarà complicato sostituirli, soprattutto Carboni, perché in questo momento ragazzi non abbiamo difensori, cioè è incredibile che non ci sia un difensore valido sempre che Lovato non si negativizzi nel giro di pochi giorni o Cepitelli che tornerà spero a breve. In questo momento gli unici due centrali che abbiamo sono Altare e Goldaniga, senza contare poi Caceres che è stato messo fuori rosa. Quindi è complicato adesso andare a vedere cosa si potrebbe inventare Mazzarri in caso, ecco, o Lovato o Cepitelli non tornino. Chiaramente c'è anche Volokievicz, ma anche lui è fuori per infortunio. Per quanto riguarda qui Pavoletti, sì, si può mettere Gagliano, è la soluzione, diciamo, che tatticamente ha più senso, però dal punto di vista proprio del calciatore, insomma, potresti provare a fare anche un... potresti provare a mettere per il gioco ad insieme. Anche quella potrebbe essere una soluzione. Non lo so. Comunque, tornando alla partita di oggi, ragazzi, la partita, per quanto mi riguarda, forse il pareggio ci stava. Peccato perché l'avremmo meritato. Secondo me l'avremmo meritato a tutti gli effetti. La Roma non era tutta questa cosa, insomma. Si vedeva che erano un po' impauriti anche loro, arrivavano da due sconfitte, anche loro hanno i loro problemi. Quindi, chiaramente, sono riusciti a sbrogliarla con un calcio di rigore che, ragazzi, secondo me, personalmente, se quel calcio di rigore... Cioè, il calcio di rigore è solare, sia chiaro. Però, se non ci fosse stato quel calcio di rigore, molto probabilmente la Roma non avrebbe segnato. Secondo me non avrebbe segnato. Forse in un modo o nell'altro lo sarebbe riuscita comunque a sbloccare, magari da calcio piazzato, ma su calcio di rigore, cioè su azione, non ce l'avrebbe mai fatta. Perché siamo stati perfetti, secondo me. Quasi difensiva soprattutto. Altari, Goldaniga e Carboni sono stati perfetti sempre. Poi, che dire, Cragno è stato, anche lui, abbastanza buono. Chiaramente sul gol le poteva poco. Bene, anche Marin, che finalmente sta tornando il Marin dei livelli che conosciamo. È stato chiaramente un po', anche lui, sprecato in un ruolo, insomma, quasi di interdizione, di regista, ma oggi che non c'era Grassi, diciamo che è giustificabile. De Iola, anche lui, comunque ha combattuto, ci ha provato, ma è il classico De Iola. D'Albert, chiaramente, c'ha sul gruppone il calcio di rigore. È anche vero, però, che in generale per tutta la partita non è che faccia gran che bene Nandez quando è entrato, nonostante anche lui rientri dal Covid. È entrato comunque bene. Bene anche Zappa, come ho detto prima. È iniziato un po' timido e poi è entrato bene. In una partita ha messo in difficoltà a Vigna. E poi bene anche Pavoletti, che, insomma, qualcosina poteva fare anche lui. Certo è che Mancini e Kubula oggi sono stati molto, molto bravi. Soprattutto Mancini, che è stato molto, 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 come dire, acceso. Il confronto con Gio'O Pedro, soprattutto, più che con Pavoletti. Gio'O Pedro e Pancini, che se ne sono dati di santa ragione. È veramente, veramente interessante come duello. Anche Gio'O Pedro, comunque, ci ha provato, ma peccato per la traversa. Insomma, poteva fare... Sarebbe stato un pareggio meritato. Secondo me sarebbe stato un pareggio meritato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita. Io vi saluto. Forza. Castus sempre. E so, ciao.